Il sacrificio eucaristico è la corona più gloriosa dell'opera grandiosa della salvezza e allo stesso tempo è il memoriale vivente di tutti i misteri di Cristo, tutto ciò che è misterioso e divino, maestoso e sublime, toccante e commovente, beatificante e consolante, istruttivo ed edificante nella religione, nell'incarnazione, nella Chiesa Cattolica, nel suo anno santo, tutto questo è raccolto e racchiuso nella liturgia della Messa. Chi vi mediti devotamente, con fede viva, non può non rinvigorire e crescere in virtù e meriti. Soprattutto il sacrificio eucaristico richiama vivamente alla mente la passione e la morte di Cristo, il Dio uomo. Fra le gioie di Natale e il triunfo della Pasqua, il Monte Calvario, con la sua eterna serietà, rimane il punto centrale di ogni celebrazione sacrificale. Nella Messa, il Confiteor e il Chirie e l'Eison non sono mai eclissati dal canto dell'Arelluglia. Perciò, segui che quando i fedeli partecipano alla Messa, dovrebbero soprattutto sostare devotamente a rivedire la passione e la morte di Gesù. Non c'è occasione più idonea del tempo sacro della Messa per fare questa meditazione devota, quando l'agnello di Dio viene immolato davanti a noi. Certamente non è difficile, durante la celebrazione della Messa, mettersi ai piedi della croce e abbracciarla. I paramenti del sacerdote, il croce fisso sull'altare, i tanti segni di croce, la mescolanza dell'acqua e del vino, elementi separati del pane e del vino, l'elevazione dell'offerta da sacrificare, lo spezzare l'ostia, i movimenti e i gesti del sacerdote sull'altare. Insomma, tutto il rito rappresenta i diversi misteri della passione, ricordandoci delle sofferenze numerose e amare che Cristo sopportò per noi, donando la sua vita e morendo di morte crudelissima per noi. Ad ogni messa, mettiti in spirito ai piedi della croce, con la dolorosa Madre di Dio, con il discepolo verginale San Giovanni e la penitente Santa Maddalena, e i divi, rammenti il prezioso sangue di Gesù che scuole su di te. Pensaci ai dolori e alle ferite di Gesù, pensa alla scelta e al fiele, ai chiodi e alla lancia. Come potresti rimanere freddo e indifferente? E al pensiero di questi tremendi misteri, quali furono compiuti sul monte Calvario per te? Gli stessi poi che sono stati rinnovati misticamente sull'altare, forse l'anima tua non dovrebbe tremare di santo timore, e il tuo cuore potrebbe non infiammarsi di amore, cotrizione e gratitudine. Nelle ferite e nei dolori di Gesù c'è un numero incalcolabile di rimproveri per la nostra tipidezza e pigrizia nel servire di Dio, per l'incostanza della nostra volontà, per la nostra avversione alle prove, delle privazioni e umiliazioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.